Puntiamo di più l'attenzione appunto sul capire insieme e darci un paio di definizioni comuni su questo tema resilienza che in maniera molto simpatica qualcuno ha detto ti sei sbagliata intendevi residenza e in realtà no è proprio resilienza. Il percorso è nella sua prima fase noi abbiamo due fasi del percorso questa è una prima dedicata alla parte di analisi la seconda accompagna la parte progettuale del piano regolatore quindi tutto ciò che approfondimento di carattere progettuale è dedicato al prossimo anno ci creiamo le basi conoscitive condivise per affrontare anche la lettura delle proposte e l'approfondimento di quelle che possono essere tutto ciò che è trasformazione sul territorio o azione sul territorio. Abbiamo diverse analisi noi stiamo conducendo quella dedicata a esplorare quello che sono le questioni che riteniamo essere più rilevanti sia in termini di conoscenza ma anche di questioni da mettere in gioco. Confermiamo il fatto che il 19 novembre quindi tra due lunedì ci sarà un incontro dedicato agli operatori del commercio che in questi sabati non hanno potuto non hanno avuto l'occasione di essere presenti perché impegnati al lavoro quindi a loro sarà dedicata due sessioni di lavoro il lunedì mattina perché molti sono chiusi lunedì mattina e il lunedì nel pomeriggio tra le 3 e le 5 perché un'altra categoria è chiusa in quella fascia oraria. A loro verrà proposto l'esito comunque del dibattito finora intercorso con voi verrà chiesto anche il loro contributo quindi verrà arricchito diciamo il report anche del loro commento. Il 22 di novembre invece è confermato l'incontro con il consiglio comunale dei ragazzi quindi anche loro esporranno il loro punto di vista con una modalità differente rispetto a quella con cui lavoriamo insieme in queste giornate però affrontando in grosso modo gli stessi aspetti declinati con un linguaggio differente però fanno un percorso analogo quindi è un contributo di pari dignità che verrà introdotto nel report alla strego del vostro. Arriveremo il 15 di dicembre a fare una proposta per la città. Questa proposta per la città oggi vi chiederemo in chiusura anche di provare a capire insieme come cominciare a costruirla nella forma di comunicazione e nella forma di promozione. Cosa secondo voi potrebbe essere più utile per attirare il cittadino a incuriosirsi anche di quello che è l'esito di questo percorso a porsi alcune domande ed eventualmente anche a rispondere ad alcune delle domande che nel corso di queste sessioni di lavoro noi ci siamo posti e che vorremmo porre alla città. Useremo vari strumenti, alcuni di questi ci piacerebbe proprio costruirli ad hoc insieme a voi affinché ci sia una promozione più pregnante e più adatta a quello che è la sensibilità del cittadino. Pertanto chiuderemo la giornata di oggi proprio con una raccolta di proposte e suggerimenti utili per far sì che la comunicazione di queste importanti opportunità di confronto arrivi in maniera decisa. Abbiamo sviluppato un simposio e abbiamo affrontato i primi tre laboratori. Sostenibile, mobile e accogliente sono questioni che abbiamo in un qualche modo declinato sull'essere come ci potremmo voler sentire nel prossimo futuro, quindi più sostenibili, più mobili e più accoglienti. Quindi parliamo di carattere o caratteristiche. Questi due laboratori sono invece dedicati più all'approccio, quindi al come. Resiliente è il primo, trasparente è il secondo. Questo è un po' l'indice del lavoro che abbiamo fatto ad oggi. Tutti i materiali sono aperti, tra virgolette, fino al 31 di novembre, 31 non esiste, 30 di novembre e primi di dicembre. Avete ricevuto oggi una seconda edizione del foglio sostenibile perché sono arrivati altri contributi che definiscono meglio alcuni passaggi e ne arricchiscono altri. Faremo la stessa cosa anche per il laboratorio mobile che è stato quello un pochino più impegnativo e tuttora continuano ad arrivare osservazioni, contributi e spunti sul tema mobile. Considerate sempre due strumenti. Il report è la trascrizione fedele di quelle che è il contributo raccolto con i post-it o i cartelloni durante le sessioni di lavoro. I fogli cominciano a integrare gli spunti che arrivano via e-mail, a volte anche via telefono, a volte in strada, con tutte le modalità possibili per cui qualcuno dice io ho anche uno spunto in più. Con questi due prodotti voi riuscite a tenere traccia del contributo schietto pervenuto e di quello che è la formulazione più o meno allargata di questo stesso contributo. Come evolve verso la proposta finale che andremo a fare la città? Rispetto a tutto ciò che emerge durante i laboratori, noi li articoliamo sempre all'interno di queste tre macre categorie, saperi, situazioni e attenzioni. Tenete conto che nel leggere comunque i resoconti emergono alcune possibilità di letture trasversali come ad esempio quali sono le proposte o comunque le considerazioni finora messe in campo che hanno un alto livello tecnologico, un'alta attenzione alla tecnologia oppure una bassa attenzione alla tecnologia. Ne stanno emergendo anche altre. Pian pianino arriveremo alla fine anche con un foglio di riepilogo che dice se dovessimo creare un filo conduttore rispetto ai diversi laboratori sono emerse queste questioni come trasversali e queste magari come fortemente divergenti quindi come elementi in contraddizione tra i diversi laboratori. La resilienza. Prima di arrivare a questo termine credo che ne abbiamo passati tanti altri prima di individuarne uno che potesse riassumere perlomeno il concetto che l'amministrazione ha inteso mettere in campo. Vi proponiamo alcune definizioni semplificate. Sono scelte non per favoritismo rispetto a un professionista piuttosto che un altro ma perché quelle più affini e ci sembravano anche quelle più comprensibili rispetto proprio al concetto per come lo si è inteso. Innanzitutto l'espressione piaciuta è la capacità propria di affrontare, superare e quindi uscire rinforzati da esperienze negative. È una resistenza in un qualche modo attiva. Ho preso un problema, lo affronto, reagisco e nel reagire addirittura miglioro la condizione quindi sono meglio di quando non ero in crisi o in difficoltà. È un processo con cui a seconda dei soggetti, individui, famiglie o comunque gruppi in situazioni di difficoltà resistono mantenendo il proprio senso di padronanza e si attivano adottando strategie adeguate. Queste strategie adeguate qualcuno le individua come la capacità di mettere in relazione diverse capacità adattive. Per adattive si intende tutto ciò che è robusto, ridondante e rapido. Tutto ciò che bene o male permea la nostra società, quindi è diffuso sul territorio ma magari è una caratteristica un pochino più minuta, meno rilevante ma presente perché è un valore riconosciuto, è un'attitudine riconosciuta, fa parte dell'identità e dell'essere questo tipo di comunità. Vengono attivati in maniera abbastanza rapida. Vi faccio un esempio abbastanza schietto rispetto a una vicenda difficile vissuta. Io sono emiliana, come sapete, quando c'è stato il terremoto qualche mese fa la prima scossa è andata bene, la seconda è andata un pochino peggio perché ha beccato le ore di urne, quindi si sono intasati immediatamente tutte le vie di comunicazione. È bastato un attimo che un giovane, un tredicenne, ha lanciato il suo messaggio di aprire i propri wifi, quindi togliere le chiavi affinché tutti avessero libero accesso dovunque fossero alla rete in modo da poter dare una comunicazione. Le comunicazioni sono arrivate via Skype, via social network, via Twitter nessuna è arrivata via telefono, neanche i soccorsi sono arrivati via telefono come chiamata. E questo perché un ragazzino tutto sommato ha lanciato questa prima esca. Questa adesso è diventata prassi, quando abbiamo affrontato la terza scossa e la quarta automaticamente quella era una competenza già acquisita, non c'è stato bisogno di dire oh ascolta apri, togli la chiave di accesso al tuo wifi, automaticamente tutti l'hanno fatto immediatamente senza che nessuno chiedesse, proponesse o suggerisse. Quindi è una competenza acquisita a fronte di una situazione problematica. Questa è un'attitudine resiliente, per farvi l'esempio. L'altro più semplice, più schietto, molto banale, ma è quello con cui ho imparato questo termine è quello dei fiori di camomilla. Sono fiori abbastanza resilienti perché quando vengono calpestati non è che muoiono, ricrescono più fitti e più bassi. Quindi semplicemente si adattano a un piccolo trauma. Questa è anche un'attitudine resiliente. Ho finito gli esempi? Se dovessimo passare dalla famiglia al gruppo o all'individuo e dovessimo affrontare il tema della comunità resiliente è una collettività che sa sviluppare azioni per rafforzare la competenza del singolo e del gruppo per gestire il corso di un cambiamento. Quindi questa capacità si attiva nel momento in cui c'è già il problema. Semplicemente dopo il problema faccio modo e maniera che diventi competenza acquisita. Abbiamo citato alcuni esempi, esperienze negative, situazioni di difficoltà e cambiamenti. Parliamo generalmente quando si affronta il tema della comunità resiliente di questi grossomodo eventi problematici. Quelli naturali, alluvioni, terremoti, uragani e gli eventi socio-economici come le crisi, le recessioni e altre difficoltà. Un esempio rispetto alle alluvioni, ad esempio della differenza tra una comunità resiliente o meno, quando ci fu l'alluvione del Po nel 51, il Polesine non riuscì a reggere e ci fu una forte diaspora, non si risollevò quel territorio. Firenze nell'ultimo millennio, grosso modo, ha avuto 60 alluvioni importanti, quindi come 20 eccezionali e ha saputo mantenere comunque la sua struttura economica, le sue caratteristiche artistiche e architettoniche. Questa è stata una comunità che in un qualche modo ha regito in una forma attiva attivando alcune competenze. Il Polesine si è cercato di capire come mai non è riuscito a reagire, mancava un senso di identità e di aderenza al territorio che invece a Firenze era ben radicato, è scattata la difesa di un territorio importante a Firenze mentre nel Polesine invece no. Ci sono tre tendenze tipiche di una comunità resilienza che è la resistenza, assorbo l'urto, quindi arriva un problema e so assorbirlo, il recupero, quindi riesco a gestire in un qualche modo lo stress e la creatività. Sfrutto quella situazione problematica per mettermi in discussione e migliorare, quindi io arrivo a un livello superiore rispetto a quello precedente. in un qualche modo una formula sintetica è proprio nel cadere risalgo, quindi mi abbatte qualcosa, qualcuno, qualche situazione, poi mi riattivo e questo mi permette di iniziare una salita che mi porta a un livello superiore. Nel promuovere la resilienza parliamo di valorizzare le conoscenze, le competenze, i valori, la cultura in modo che possano rappresentare una risorsa che sono capace di attivare poi per tutte le situazioni. La capacità non sta nel riproporre, quindi ricalcare dinamiche o attività fatte, ma di adattarle, cioè l'abilità nel capire come adattare le proprie risorse per...